Ciao ragazzi, siamo in laboratorio, non si dovrebbe far riprendere, però stiamo adoperando con i microscopi e abbiamo visto un muschio. Aspettate un attimo, ora vi faccio vedere cosa stiamo facendo. Al momento stiamo prendendo una cosa di fece, una foglia di muschio, una foglia di muschio, scusate, e la stiamo vedendo praticamente ora a 10x, stiamo vedendo a 10x con tutto il, vediamo, vediamo, vediamo vacuoli ragazzi, vedo vacuoli. Eccoci di nuovo all'attacco qui con il microscopio, io ho visto dei palli e delle strisciettine, ma qui abbiamo una cipolla, una zucca, una patata e una cosa di fece, questi sono i miei amici nel corto. Eh ma è bianco, non si vede più. Non fare troppo giù con lo zoom perché vai sul vetrino. Va bene, noi ora ci applichiamo a vedere le cose. Un saluto a YouTube ragazze, un saluto a YouTube. Ciao! 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 Ciao ciao! 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 colorati con un colorante viola, viola, la patata ed è bellissima. La patata è viola. Allora ragazzi abbiamo appena fatto una semplice di una cipolla con il bisturi e abbiamo visto spacchi i vetrini, Clementino spacchi i vetrini. Comunque abbiamo fatto una porzione, sì bello lo smartphone, abbiamo fatto una porzione di un quadratino e abbiamo preso praticamente il primo strato di cipolla e l'abbiamo poggiato sul vetrino. Quindi l'abbiamo messo sul vetrino e ora l'abbiamo anche colorato. L'abbiamo visto tutti i vacuoli. Dipende dalle cose che stiamo guardando, io lo faccio a sensazione, a sentimento. E vabbè niente, ora ci mettiamo un altro poco a guardare, ad osservare, non so ovviamente con la videocamera, con il cellulare, perché non era... che è messo? Si vede qualcosa? Perché non era... Arancione! Arancio! 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 Oh Gesù, è bello! Scusa, mi vediamo io! Oh Mario, che cosa? Non lo so! Ragazzi abbiamo visto una cosina spezzata! Si vede una X arancione! Si vede una X arancione che non doveva esserci nel vetrino, però è carina! Ma io credo che sono i capelli di quale... No, non scherzo! No, non sono capelli, impossibile! No! Non ci sono i capelli! No, non sono i capelli! No, non sono i capelli! No, che bello lo spollo! Si può fare? Ci provo! Voglio vedere! No, che cazzo fai? Si vede? No, non si vede niente! 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 Ragazzi, allora abbiamo fatto una soluzione ipertonica e l'abbiamo aggiunta alla cosa di cipolla e ora i papuli si stanno tutti quanti raggrinzendo e si vede che è una bellezza! Però non riesco a farvelo vedere dal microscopio perché fa stimolamente! Guarda! Eccolo! E' questo praticamente! Ah, che bello! Che bello! Che bello!